Buongiorno e benvenuti per questa nostra nuova puntata di 7 in punto dedicata alle elezioni. In questo caso parliamo delle elezioni di Venezia che si votano ovviamente in concomitanza con le regionali e il referendum. È venuto a trovarci uno dei candidati Giovanni Andrea Martini che è candidato della lista Tutta la città insieme ma anche sostenuto da altre due civiche che sono Permestre Venezia e Ecologia e Solidarietà. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ben trovato. Allora insegnante, appassionato di cinema, anche direttore del premio dedicato a Pasini che riguarda Pasinetti che si occupa proprio del rapporto tra generazioni diverse, tra anziani e giovani, la scelta di questa candidatura come è arrivata? Sappiamo che è stato un percorso travagliato che è passato anche attraverso l'uscita dal Partito Democratico dopo la scelta di non fare le primarie. Certo, è stata una scelta difficile, travagliata come ha detto in un periodo così complesso come è stato quello di quest'anno e dell'anno scorso, insomma una situazione difficile che comunque era necessaria perché le primarie che sono nello statuto del PD e che sono uno strumento per scaldare gli animi, per fare in modo che la città senta questi temi e senta fortemente l'elezione di un sindaco. Ecco, di fronte a questa mancata scelta del Partito Democratico non potevo fare altro che, anche perché da tempo si discuteva di questo e da tempo occorreva anche una scelta precisa che è stata fatta. Ecco, quindi una scelta dettata proprio dalla necessità di far partecipare di più anche i cittadini, che mi sembra che sia anche un po' il contenuto della sua lista, tutta la città insieme e che affronta molti temi caldi a Venezia e non solo, dal Mose alla bretella con l'aeroporto, dalla sicurezza alla terraferma, alla questione delle crociere, quindi un po' tutti i temi cittadini con una modalità che mi sembra di capire quella che fa la differenza. Sì, la partecipazione per noi è fondamentale, lo è stato anche durante questo periodo di 5 anni di municipalità, la volontà di dialogare sempre con la città, di relazionarsi attraverso assemblee pubbliche, di capire e di ascoltare quello che la gente vuole, credo e crediamo che sia proprio il registro migliore per poi fornire anche delle soluzioni o proporre delle proposte valide. Allora, entrando proprio nel merito delle questioni, un po' le ho riassunte in questa domanda e sono questioni cruciali anche per Venezia, adesso sono appena state definite anche le modalità operative per la messa e per l'apertura del Mose in caso di acque alte sopra i 130 centimetri sul medio mare, lo ricordiamo che è un po' particolare Venezia, quindi bisogna dei 110, diciamo così, si comincia a vedere la città, questo preserverebbe la città al 50%, però ci sono ancora tanti punti interrogativi. Innanzitutto noi siamo molto critici sia per la storia che il Mose ha avuto, quindi tutta la trafila di corruzione, ma anche proprio sulla modalità e sul funzionamento e per questo noi riteniamo che occorra che una commissione internazionale di esperti valuti se effettivamente può essere messo in funzione. I problemi si sono manifestati e sono stati moltissimi, adesso anche questa scelta di farlo partire al metro e 30 di altezza è una scelta penalizzante fortemente per la città perché molta parte della città di Veneta andrebbe sott'acqua e quindi si ritiene che proprio oltre a dannoso rischi di essere proprio inutile come opera. Inutile perché la media delle maree, a parte quelle eccezionali, sta sotto questa cifra, dice lei? Assolutamente sì. Purtroppo la cronaca ormai ci ha abituato a capire quali sono le maree preoccupanti per Venezia. E quindi appunto 1,10 era diciamo se funziona, se potesse funzionare sarebbe effettivamente un dato di maree accettabile perché appunto la città sarebbe preservata visto che alcune parti sono state rialzate. Noi proponiamo proprio anche questo, cioè lo studio maggiore sulle modalità di impatto minore dell'acqua alta, uno tra le tante che proprio a Padova viene studiato dall'Università di Padova è proprio l'innalzamento anche delle isole e quindi è su quello che per esempio noi puntiamo oltre alle altre mitigazioni che si possono ottenere per evitare le forti acqualte di cui siamo testimoni purtroppo diretti da un po' di tempo. Ecco, Venezia dovrebbe stare proprio sullo scenario nazionale perlomeno come elemento importante anche adesso che si parla di tanti fondi che dovrebbero arrivare proprio grazie al Covid per il territorio, la salvaguardia del territorio, le generazioni future che possano avere un patrimonio che rimane insomma dalla nostra storia, però si è parlato sempre poco del comitatone, di una legge per Venezia, è rimasto tutto ancora un po' da fare, tutto questo ambito? Certo, non a caso due anni e mezzo fa siamo andati al Consiglio d'Europa a Strasburgo proprio per portare l'idea di una Venezia capitale verde d'Europa, ci sembrava necessario perché appunto Venezia sta attraversando e stava e sta attraversando un periodo di grande sofferenza ambientale e devo dire che il Parlamento europeo ha accettato con grande calore questa proposta e tanto è vero che adesso insomma un po' tutti individuano questo come via di uscita dalle situazioni in cui ci troviamo. La situazione di Venezia l'abbiamo poi portata anche a Seul all'osservazione del congresso internazionale sul turismo e lì a Seul quello che ha colpito molto è che Seul, una città enorme, bellissima, con 14 milioni di abitanti, si preoccupavano perché l'impatto turistico sulla città di Seul era di 11 milioni di abitanti. Quando abbiamo portato appunto il caso di Venezia che con 53 mila abitanti della Venezia insulare ospita 30 milioni di abitanti l'anno, diciamo che sono sussultati un po' tutti sulle loro sedi. Quindi è un problema quello di turismo che abbiamo pensato e abbiamo individuato anche come risolvere, come gestirlo. Abbiamo studiato in questi anni anche delle applicazioni sul come effettuare la prenotazione obbligatoria gratuita e quindi diciamo che quello ci permette anche di uno strumento agile e veloce per gestire il turismo. Sarà possibile anche, visto il momento particolare che stiamo vivendo, secondo lei accelerare da questo punto di vista? Allora noi teniamo a precisare che questa pausa diciamo purtroppo dolorosissima del Covid possa essere un'opportunità per rivedere e per un turismo regolamentato, un turismo di qualità, ma non solo, un turismo quantomeno contenuto nei numeri. Questo attraverso appunto prenotazione, ma anche attraverso la regolamentazione dei gruppi, gruppi che possono arrivare attraverso i vettori più diversi, quindi uno di questi per esempio è quello delle grandi navi e quindi anche là tutta una serie di precauzioni per cui anche le attività economiche della città possono essere adeguate, nonché il tema fondamentale della residenza che per noi rimane un tema cardine, insomma la casa per i residenti, per gli abitanti deve essere garantita. Bisogna che la città sia viva, adesso diciamo abbiamo solo pochi minuti, l'argomento richiederebbe ovviamente molto più tempo, però sicuramente è cambiata anche la fisionomia di Venezia con questo lockdown, abbiamo visto quelle immagini straordinarie da un certo punto di vista, ma impressionanti di una città completamente deserta che ha dato proprio il segno della città che vive quasi ormai esclusivamente di turismo, che senza il turismo è praticamente morta, quindi è un tema che per Venezia è il tema dei temi, questo di come far convivere la città con il suo ruolo di bellezza mondiale, ha parlato, ha accennato al tema delle grandi navi, poi magari ci sposiamo anche un po' sulla terraferma veneziana, le grandi navi non sono contemplate insomma, mi sembra di capire nel vostro progetto. No, diciamo che noi abbiamo le idee precise, chiare, le abbiamo sempre dette, le grandi navi devono rimanere al di fuori della laguna, quindi su questo tema… E quindi l'ipotesi che è stata finora accreditata, vi piace? Allora diciamo che non c'è un'ipotesi precisa che è stata accreditata, ci sono tante ipotesi, soprattutto c'è un'ipotesi adesso molto in voga, quella del porto offshore che ci trova anche d'accordo, però si parla di situazioni e soluzioni provvisorie che possono prevedere scali interni tipo Marghera, cosa che non ci vede assolutamente d'accordo, perché questa provvisorietà, a parte la pericolosità, ma poi conosciamo che la provvisorietà in Italia e da noi diventa poi definitivo, quindi diciamo il decreto Clini Passi l'aveva definito… Non c'è niente di più pericoloso della provvisorietà, anche se hanno già stanziato una parte di fondi, mi sembra, per lo scavo dei canali, quindi… E quello è un altro problema, certo lo scavo dei canali è un altro problema perché per la vita anche della laguna che deve essere preservata, quindi diciamo che è tutto un insieme di cose che va con molta cautela, ma anche con molta decisione e con molta precisione, la chiarezza in questi anni è sempre mancata, noi abbiamo le idee chiare e lo diciamo con grande chiarezza qual è la soluzione. Lei è stato Presidente della Municipalità di Murano e Burano, Venezia, Murano e Burano, e quindi è un territorio che ha tutte le particolarità anche delle necessità di collegamento con la sanità, con i trasporti, tutta la questione è un po' difficile. Cosa chiedono i cittadini, visto che voi parlate alla base, cosa chiedono i cittadini per essere coinvolti proprio in una città così complicata da gestire? Ecco, chiedono di essere coinvolti o quantomeno chiedono di poter partecipare e con questo sindaco in questi 5 anni questa partecipazione è totalmente mancata, anzi l'ha proprio tagliata e quindi quello che noi proponiamo è la riattivazione della partecipazione attraverso quelli che sono i metodi più normali che sono quindi le assemblee pubbliche, i consigli pubblici, l'apertura delle commissioni alle attività pubbliche e poi gli spazi, perché gli spazi pubblici sono anche quelli che fanno vivere la città, se si parla anche con i ragazzi in terraferma, maestre, marghera, la richiesta che hanno i ragazzi oggi è proprio quella di avere degli spazi da gestire, degli spazi in cui poter suonare, in cui poter trovarsi, in cui poter realizzare attività teatrali, questi spazi sono stati privati, tolti dalla città e questo è un danno gravissimo perché noi parliamo sempre di sociocultura, la cultura serve per creare una società migliore. Assolutamente, ti spostiamo anche a parlare appunto un po' della terraferma veneziana con due temi che sono importanti, la sicurezza perché sappiamo che il noto di Mestre sta diventando piuttosto difficile soprattutto per il traffico di stupefacenti e la questione del quadrante Tessera, chiamiamolo così, con i nuovi progetti dalla bretella del collegamento dell'aeroporto al cambiamento proprio di questa zona della città. Partendo da questo noi siamo molto attenti a quella che è la vita delle città, della città e quindi anche alla vita dei cittadini e un impatto così pesante come quello del cappio a Tessera, della bretella, ci vede totalmente contrario, comunque noi abbiamo presentato tutta una serie di osservazioni che segnalano come una spesa così ingente per una soluzione che con una modalità più semplice potrebbe essere più funzionale per tutti e anche più a tutela dell'ambiente e anche dei cittadini. Soltanto invece della sicurezza diciamo che è questo un altro dei grandi problemi che il sindaco attuale si era detto capace di risolvere, invece abbiamo visto che invece è peggiorato tantissimo, la militarizzazione cittadina, l'avere assunto un sacco di vigili e averli addestrati militarmente è stato un fallimento totale e quindi bisogna invertire la rotta, la tendenza, occorre come diceva anche lei prima, far vivere la città perché attraverso la città, una città viva, una città vissuta, una città senza sernande abbassate come il centro di maestri, con delle attività sul territorio pratiche, veloci, presenti, la presenza dei cittadini è il miglior deterrente rispetto alla delinquenza e tutti i fenomeni di criminalità, droga, spaccio, quindi noi crediamo che i cittadini vogliano vivere e vivendo la città siano anche i migliori a tutelarla nel migliore modo possibile. Non si può parlare di Venezia anche se abbiamo proprio 10 secondi di battuta senza parlare della Biennale, questa Biennale del Cinema che ormai sta chiudendo in città, il premio appunto dintorato a Francesco Pasinetti fa parte di questa storia e anche della sua storia personale, due parole per dire, Venezia è la sua Biennale Cinema, com'è stata quest'anno? Cosa c'è da fare lì? Ci sarebbe da fare tantissimo, è evidente che la Biennale Cinema è una storia che deve continuare e che ci piace tanto, mi viene in mente che abbiamo portato questo, che è un film del 63 di Francesco Rosi, che è Le mani sulla città, che ha vinto appunto il leone d'oro. Noi lo ricordiamo adesso oggi come le mani del nostro sindaco sulla città, perché sostanzialmente la storia di aver ipotecato la città sul piano del privato, la privatizzazione di tante cose, di tante realtà, è uno dei danni più gravi secondo noi che ha arrecato il nostro sindaco Brugnaro. Grazie a Giovanni Andrea Martini, candidato appunto sindaco di Venezia per tutta la città insieme con Permestre Venezia, Ecologia e Solidarietà e un buco al lupo. Grazie. Grazie e tra poco presentiamo un altro candidato, tra pochissimo.